Il mondo multimediale Dotata di un processore dual-core Intel con componenti per il risparmio energetico, la serie TSX51 di QNAP offre un archivio multimediale centralizzato su cloud personale e transcodifica FullHD per una riproduzione universale di file multimediali. Con l'esclusiva tecnologia QNAP QVPC che consolida diverse tecnologie, il TSX51 può essere comodamente utilizzato come sostituto del PC aggiungendo una tastiera, un mouse e un monitor per godere di numerose applicazioni per PC su NAS. Grazie alla semplicità d'uso di Hybrid Desk Station è possibile sfruttare una gamma di applicazioni, incluse macchine virtuali e la Surveillance Station per soddisfare molteplici esigenze. Grazie alla connettività HDMI, il TSX51 si trasforma in un incredibile lettore multimediale in grado di produrre FullHD con audio surround 7.1. La transcodifica in tempo reale consente di godere di tutti i film sui dispositivi mobili, fino a 5 dispositivi in contemporanea. La transcodifica veloce offline e il meccanismo di transcodifica automatico consentono a più utenti di avere una riproduzione senza interruzioni, anche con limitata banda di connettività a Internet, mantenendo al contempo le prestazioni ottimali del NAS. Sono inoltre a disposizione degli utenti diversi metodi di streaming per godere dei file multimediali in tutta la casa su un'ampia gamma di dispositivi. La serie TSX51, dotata dell'intuitivo sistema operativo QTS, offre un modo sicuro per accedere, condividere, eseguire il backup e archiviare i file importanti. La capacità della serie TSX51 può essere comodamente ampliata grazie alle unità di espansione RAID, per archiviare le vostre raccolte multimediali. Grazie all'App Center integrato, sono disponibili centinaia di app da scaricare per ampliare ulteriormente le funzionalità della serie TSX51. Con Virtualization Station è possibile impostare una macchina virtuale e godere delle comodità delle applicazioni virtualizzate. Inoltre, Surveillance Station offre una soluzione completa a protezione costante dell'ambiente e delle proprietà domestiche. Potente e con un'ampia gamma di funzioni, la serie TSX51 è un perfetto elemento aggiuntivo degli impianti digitali. Per saperne di più sulla serie TSX51 e sulle altre soluzioni NAS, visitate QNAP.com e con un'ampia gamma di funzioni, la serie TSX51. Per saperne di più sulla serie TSX51.